La data della riapertura di gran parte delle attività si avvicina rapidamente, ma su tempi e modi regna l'incertezza. E il presidente del Veneto, Luca Zaia, chiede che le comunicazioni ufficiali siano date per tempo e correttamente. Per quanto riguarda le attività, io spero che in queste ore il governo si decida di dire qualcosa. Guardate, se avessero deciso di non reiterare, non ripresentare più DPCM, quindi nuovi decreti dal 18, quindi in teoria aprire tutto dal 18, è fondamentale che lo si dica ai cittadini. Non possiamo il 17 sera o il 18 dire le parrucchiere, i ristoranti, i bar o le attività commerciali aprono domani mattina, perché non funziona così. Ed ecco quindi l'appello del presidente della regione al governo di Roma. Allora veramente appello che faccio io, che si apra ma in maniera ovviamente programmata, in maniera tale che tutti noi ci sappiamo organizzare. Anche noi abbiamo un problema, che è quello dei servizi della prevenzione che devono essere organizzati per nuove aperture.